C'è chi per ingannare il tempo si fuma una sigaretta, chi spulcia le chat sul cellulare, chi invece scambia due parole con i colleghi in attesa di un cliente, il cui arrivo di questi tempi è accolto quasi come un'apparizione divina. Sono tempi duri anche per i tassisti piacentini, i quali, così come i loro colleghi di tutta Italia, stanno attraversando una crisi senza precedenti, che si acuita, dicono, dopo l'approvazione da parte del governo dell'ultimo DPCM. Stiamo vivendo una situazione drammatica dal punto di vista professionale in quanto stiamo fermi anche 90 minuti su un posteggio prima di prendere una corsa e quindi si va a casa con incassi minimi, ci vuole molta pazienza per far passare la giornata. Dalla chiusura anticipata alle 18 di bar e ristoranti, nessuno ha quindi necessità di farsi accompagnare a casa dopo un bicchiere al venerdì sera, allo smart working con molte aziende che, sempre di più, preferiscono far spostare i propri dipendenti solo in caso di assoluta necessità. Di conseguenza, dai treni scende sempre meno gente e il posteggio dei taxi di Piazzale Marconi, davanti alla stazione, è quasi sempre pieno di tassisti in attesa. Gli alberghi sono vuoti. Inoltre, con gli ospedali e le prese con il Covid, molti anziani si stanno vedendo cancellare screening e visite e quindi non hanno più bisogno del taxi che li accompagni. Infine, sono calati i clienti stranieri. Il fatturato dei tassisti, almeno qui a Piacenza, è crollato dell'80%. Per quanto riguarda invece il recente decreto ristoro, insomma, anche voi siete coinvolti in queste misure. Voi come la pensate? Siete fiduciosi? Siamo fiduciosi, probabilmente come tutti gli altri, nel senso che poi si vedrà quando arriveranno davvero i soldi o meno. Vediamo una situazione davanti, pesante da sopportare, anche perché non sappiamo che termini avrà. È una situazione drammatica, ecco.